Prova a correre Sorokas, gli chiude la strada il connazionale Velicka, sfida in area pitturata tra lituani, ha la meglio Paolo Sorokas. La corte di Pino Sacripanti, mentre vorrebbe un altro tocco col piede di Nicolao, gli ambiti stavolta lasciano correre dall'altra parte Velicka, con il canestro assegnato. Proprio Marcoskin che prova a spingere, arriva a centro area, altro grande assist ancora per Caruso, che si fa trovare prontissimo rimorso. Cercare il 2 per 1 Varese, ovvero un tiro rapido, gradere l'ultimo possesso, questa è la scelta dell'Open John Metis. Ripaltamento per Parks, dentro Totè che fa spallate contro Sorokas, sbagliato il tiro dell'ex fortitudino che si ritrova il pallone in mano. Il secondo tentativa di Pino, vedete anche la differenza nel rendimento da 2, 35% per i padroni di casa, il 65% per gli ospiti, che si alza ulteriormente con il jumper dalla media di Bene. Che riporta a meno 10 Napoli, Kin contro Vitali, vuole tornare a prendere un tiro da 3, mancava da un po', lo segna Marcoskin. Ricci ci riprova da fuori, altra tripla segnata dalla Gevi, prova a ripartire Marcoskin. Marcoskin, ha lo spazio per alzarsi da 3 e interrompe il momento difficile di Varese. E dire che tra le due, quella che è prima in stagione per numero di rimbalzi in attacco è Varese. Varese comenta tirando male da 2 punti Napoli, addirittura il 38%, Golden Tensai ci riprova da 3, 5 su 5. Vitali vede il taglio in post-alto di Parks, che vuole attaccare col fisico, il secondo ferro gli dà una mano. Arriva a quota 7 con il secondo libero, più 14 Varese. Adesso è veramente complicata per la Gevi, che però prova a non arrendersi. Flaude e Royakers il rientro difensivo dei suoi, poi arriva la schiacciata rimbalzo di Parks. Grande gesto atletico di Sorokas e forse finisce qui. Forse Ricci si aspettava un passaggio, visto quello che stava facendo fino adesso. Assist di Kim per De Nicolao, perso sotto al ferro.